Va detto che le donne cominciavano ad aumentare, le donne in montagna, perché erano già cominciati ad essere degli arresti di donne, vi erano state delle donne che erano state torturate, eccetera, che quando erano in pericolo si ritiravano, andavano in montagna con i partigiani. Allora l'opinione pubblica, il bieghini, il chissà se fa, ecco, con il chissà se fa mi sono incontrata, mi sono scontrata anch'io. Perché dopo un mese che io ero in distaccamento, che ero su a Barrazzone, mi chiamano di venire a Ceresola, anzi a Curada, che mi aspetta il mio fidanzato. Lui era via, era tornato, quando è tornato io mi incontro con il mio fidanzato. Quanto l'ho visto, che ho visto alla sua faccia, ho detto qui, altro che temporale. E quello mi dice, guarda che tu adesso vieni immediatamente via con me. Dico, beh, perché? Scusami, sono dovuto scappare perché se mi prendono, mi fucilano, credi che sia giusto che io ti ritorni a casa. Non è giusto. Dice, no, no, ci sposiamo, poi tu vieni a Varese e nessuno ti viene a cercare. Per Dio, ci sposiamo, diamo alle autorità le informazioni che loro hanno bisogno e tu credi che mi lasciano a Varese. Ma dico, ma sei più contento che mi torturo? Ma tu hai voglia di scarciare. E poi dico, scusami, io ho fatto questa scelta, per quale motivo io devo venire via? E lui mi dice, se tu resti qui diventi una donna indegna di educare i miei figli. Ecco, lì io non ci ho più visto. Già avevamo avuto delle forti discussioni sul compito della donna nella famiglia. Perché io non accettavo di essere considerata un'unilità, che l'uomo mi sposava per avere una serva a tutto fare e che gli faceva anche i figli e chi comandava, chi decideva in casa era l'uomo. Ecco, io questo non riuscivo a capirlo e di conseguenza ero oggetto di continua discussione. Discutevo anche con mio padre su questo, ma solo che mio padre era una persona molto democratica, anche evoluta, ecco che certi discorsi li capiva. Lui no, lui diceva che la donna è l'uomo che decideva, scusami beh, un figlio è per te l'atto di un momento, per me nove mesi gli do la mia vita, per nove mesi il figlio vive dentro di me e poi dopo sono io che lo alimento, sono io che lo accudiscono, sono io che gli do la possibilità di vivere. E io non ho nessun potere di decisionare, nemmeno di discutere come questo ragazzo deve crescere. Beh, ma dico scherziamo? Dice in casa chi comanda è l'uomo. Beh, dico adesso tu vai a casa, a comandare a casa tua, che io vado in montagna. Io resto dove sono perché questa è una scelta che ho fatto. Non era una scelta difficile, facile allora, perché dopo tanti anni di fidanzamento era ciò che io avevo scelto per il mio futuro, ecco, che io dovevo dargli un taglio netto a questo futuro. E per me non era una cosa facile, dovevo mettere nella mia mente anche il fatto che forse non mi sarei più sposata, perché allora dopo tanti anni di fidanzamento eri considerata una vedova, per cui difficilmente un giovane si sarebbe sposato una donna come me. Però per me non me la sentivo di formare una famiglia con un uomo che la pensava in quel modo.